Arrivando con i rappresentanti di A Ruota Libera e della Pordenone Pedala, si è ripetuta ieri la consueta intervista di Arlecchino al sindaco di Pordenone Claudio Pedrotti, sotto la loggia del Palazzo Municipale. Quest'anno, in sella ad una ciclette, il primo cittadino è stato pungolato su diversi argomenti, che vanno dalle piste ciclabili alla presenza del circo in città, fino ad arrivare alla crisi economica e alle sue conseguenze. Il sindaco di Pordenone Claudio Pedrotti. L'Arlecchino ci provocherà su temi più diversi. Si parte dalla bicicletta perché alla fine è quello il simbolo, la bicicletta pedalare in salita, quindi la metafora è abbastanza chiara. In realtà poi discuteremo anche di cose più serie, quindi il lavoro, l'economia, la cooperazione. Ma la cosa più interessante, secondo me, saranno le testimonianze dei due ragazzi. Sono persone giovani che hanno delle aziende molto, molto, molto diverse tra di loro e che ci daranno una loro testimonianza di come anche in momenti così difficili si possa essere creativi, si possa pensare a cose diverse, a modelli diversi. Quindi incontro, un match, come sempre molto divertente, però come sempre Arlecchino ridendo tocca anche e dice la verità. Quindi arriveremo a discutere anche di cose molto serie che riguardano la nostra città e il nostro territorio da vicino.